Il territorio ha dato questa possibilità, mi auguro che questo sia un primo inizio con questa collaborazione, con gli anni magari futuri si va avanti perché sicuramente questo interesserà le chiese qualche cliente, così magari quelle che stanno in prima o seconda i prossimi anni possono fare la stessa esperienza. Grazie per la vostra presenza e grazie.